Musica Addio a Joan Fontaine, celebre per il ruolo di Rebecca nel thriller di Alfred Hitchcock. Rebecca, la prima moglie, è morta all'età di 96 anni. L'attrice premio Oscar, sorella dell'altra viva hollywoodiana Olivia de Aviland, era nata a Tokyo il 22 ottobre del 1917. Tra i suoi maggiori successi ricordiamo il fiore che non colsi, la porta proibita, la sfinge del male e la lettera da una sconosciuta.